E allora come ti è nata la voglia di fare questo mestiere? Ma come ti dicevo ieri sera, sono partita facendo la modella, poi sono arrivata a Roma all'età di 19 anni e lì casualmente ho fatto un provino e sempre casualmente per gioco e poi preso più seriamente ho iniziato a fare la crisi. Lo so, la verità è che lei è diversa da tutti gli altri uomini, vero? No, è lei che è diversa dalle altre donne. Non dica sciocchezze, se non mi conosce nemmeno. Dove è ora questo teofilo? È il prigioniero nella miniera di Papos. L'unica cosa che so è che è molto anziano. Capisco. Beh, non vorrei disturberti. No, nessun disturbo, anzi fai con comodo che siamo in anticipo. Là c'è proprio l'Alef, da dove si vede tutto il mondo. Questa guarda come ride proprio la Letizia del mondo nei loro occhi, che bello. Qui proprio ho una voglia di saltargli addosso. Faccio mio il grido di Borrelli resistere, resistere, resistere. Non c'è la pace. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie per la visione!